ben trovati mercoledì 27 gennaio 2021 il giorno della memoria appuntamento straordinario del libero della vita la rassegna come dire naturalmente in questi mesi di pandemia si svolge in altre modalità il comune di scandici raccontiamo di questo giorno della memoria e lo facciamo ancora quest'anno con il professor claudio vercelli che saluto ringrazio professore ben trovato grazie ben trovati a tutti grazie dell'ospitalità ancora un anno perché le persone che seguono le centinaia di persone che seguono il libro della vita e ci chiedono di lei dopo averla vista già altri anni non è nostra consuetudine come dire replicare degli ospiti che sono via via ogni edizione diversa invece il 27 di gennaio c'è una grande affezione nei confronti del suo racconto perché sempre stato un racconto estremamente incisivo e naturalmente anche emozionante raccontiamo brevemente che il 27 di gennaio il giorno della memoria che è una ricorrenza internazionale che racconta del della della memoria della commemorazione delle vittime della della shoah ed è stato istituito dopo una risoluzione delle nazioni unite il 2000 durante una riunione plenaria la 42esima del primo novembre del 2005 questo diciamo così il contesto prima di chiederle del 27 di gennaio che è una data naturalmente un simbolismo potentissimo e chiedo però un'altra cosa questa non è come qualcuno la scambia una festività ebraica diciamo così il mondo ebraico israele c'ha 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 yom ha shoah che si che si celebra il 27esimo giorno del mese ebraico di 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 sam per cui l'anno scorso fu il 21 di 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 aprile se non ricordo male il carico il calendario gregoriano naturalmente è un'altra modalità questa è è è una ricorrenza mi verrebbe da dire per i non ebrei è una ricorrenza per per i gentili è una ricorrenza per il coloro che si per 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 gli eredi di coloro che si accanirano diciamo così no certo intanto è giusto ricordare per l'appunto che parliamo di non solo memoria ma di ricordo della memoria di come è stato rielaborato in qualche misura è giusto rammentare il fatto come già si diceva prima che il giorno della memoria ha una valenza per più aspetti universale doppiamento universale la prima universalità sta nel fatto che è un'iniziativa che è un evento che è una ricorrenza che è presente in moltissimi paesi del mondo in particolar modo quelli dell'unione europea questo è un primo dato su cui soffermarsi perché appartiene proprio ai dispositivi del ricordo che sono stati fatti propri dall'unione europea lo stesso giorno della memoria ha una funzione ha molte funzioni ma una in particolar modo quella di stabilire dei legami ancora più solidi ancora più consistenti con tra i popoli europei sulla scorta non solo del presente ma anche di un comune ricordo una comune memoria del passato e questo è un dato un altro dato che già stato ricordato ma che riprendo sia pure an passane è il fatto che non è un'iniziativa che abbia come centro assoluto il solo sterminio ebraico e che si rivolga come tale a quelli che sono gli eredi di quella vicenda è una è un esercizio invece collettivo che riguarda la pedagogia politica e sociale dei nostri paesi e che parla quindi a tutti indifferentemente e anche qui la distinzione molto importante che non è una distinzione semplicemente di superficie ma è una distinzione sostanziale ha a che fare col fatto che in Yom Ashoa senz'altro in Israele come nelle comunità ebraiche del mondo si ricordano i propri caduti le vittime che furono sterminate dai nazisti e dai fascisti ma al medesimo tempo lo si fa in una dimensione collettiva ma anche privata mentre invece il giorno della memoria ha una natura commemorativa molto particolare perché vuole rendere l'elemento proprio della pubblicità della dimensione cioè collettiva come dato fondamentale non a caso il dispositivo della nostra legge in Italia 211 del 2000 dice molto chiaramente che secondo com anzi seconda norma della legge medesima il contenuto della legge medesimo secondo articolo dice molto chiaramente che in occasione del giorno della memoria si fanno iniziative si celebrano attività si svolgono attività soprattutto poi nelle scuole perché è una cosa che parla del passato ma è rivolta al futuro e quindi parla di cittadinanza parliamo di questo 27 gennaio le truppe sovietiche della sessantesima armata del primo fronte ucraino stiamo parlando di Ivan Konev del maresciallo Konev arrivarono verso questa cittadina polacca Oswiecim che noi conosciamo con il nome tedesco di Auschwitz e scoprirono appunto il campo di concentramento avvennero altre liberazioni prima Sobibor se non sbaglio Belzec, Treblinka, Majdanek però Auschwitz è veramente il simbolo che cosa accade con il 27 gennaio? Allora faccio solo un piccolo passo indietro l'esercito sovietico che solo per essere come dire precisi da un punto di vista storico già non si era più armata rossa anche se convenzionalmente poi di nuovo essere definito come tale a tutt'oggi lo ricordiamo in quei termini lì era un esercito di gigantesche dimensioni fra l'altro era praticamente come dire una sorta di stato negli stati che si muoveva con una massa non solo di combattenti ma anche di reparti logistici di salmerie enorme quindi parliamo di milioni di persone in movimento arrivato in Polonia avendo già affrontato la liberazione della Bielorussia dell'Ucraina dove dei campi dei singoli campi di sterminio già sussistevano anche campi di lavoro che diventavano poi campi di sterminio per coloro che vi erano imprigionati arrivato in Polonia si trovò prima nell'estate del 44 a identificare alcuni luoghi di sterminio che erano stati però soppressi insieme a coloro che vi erano finiti dentro va da sé e in particolar modo Treblinka che di fatto quando terminò la sua funzione ben prima dell'arrivo dell'esercito sovietico fu chiusa dai nazisti e fu letteralmente cancellata ci fu un lavoro già in quei mesi lì in cui era presente l'esercito sovietico per recuperare testimonianze ed elementi che dicessero che lì effettivamente erano scomparse ben 750 mila persone a Treblinka a Treblinka poi la liberazione che forse fece più scalpore per i sovietici medesimi fu la liberazione di Majdanek perché il campo esisteva ancora era un campo duplice aveva sia una funzione di sterminio sia una funzione di concentramento poi le due cose si sovrapponevano la distinzione è essenziale per capire certe dinamiche ma ovviamente non designa la morte degli uni e la salvezza degli altri designa la scomparsa di tutti quelli che vi dice precipitano dentro arrivati a Majdanek nell'estate le 44 i sovietici si resero pienamente conto se mai ne avessero avuto ancora bisogno che cosa fosse il sistema concentrazionario per cui quando nel gennaio del 45 le avanguardie dell'armata di Koniev arrivano in prossimità di Auschwitz presumono o intuiscono di avere a che fare con un grosso complesso ricordo fra l'altro coloro che ci ascoltano che noi parliamo del campo di Auschwitz ma in realtà è un circuito un arcipelago se sono circa 43 campi tra il campo matrice Auschwitz 1 campo di sterminio Birkenau Auschwitz 2 poi la Buna Monowitz che era una struttura industriale dove finì poi salvandosi primo Levi era una struttura chimica creata struttura che dove c'era l'industria chimica creata appositamente per sfruttare fino allo sfumimento la morte i detenuti e poi vi erano tutta una serie di sottocampi che per tutta la regione dell'Alta Slesia facevano da arcipelago quindi è giusto parlare di un arcipelago Auschwitz arrivati in prossimità dei campi più importanti 1 e 2 i sovietici il rompono ma il rompono in maniera come dire molto felpata cioè aprono le porte si trovano davanti ciò che resta qualche migliaio di sopravvissuti che erano scampati eh alla morte vuoi perché non erano stati uccisi nei giorni precedenti quando eh i gestori dei campi di SS si erano spostati ed erano andati via vuoi perché non erano stati obbligati a intraprendere quelle lunghe marci della morte alle quali erano costretti appunto i sopravvissuti che poi venivano assassinati nel corso di ehm per appunto del loro svolgimento aggiungo solo cosa molto importante di quei circa sei o settemila sopravvissuti eh all'interno dei campi di Auschwitz molti di loro sarebbero morti nei giorni se non addirittura nelle ore successive perché erano in una condizione eh inaccettabile eh insostenibile e fra l'altro una nota che significativa il primo gesto che potevano fare i liberatori era quello di dare le mangiare a loro ma questo era un problema enorme perché persone che erano rimaste lì anche solo pochi mesi in uno stato di deprivazione totale erano talmente così indebolite che rischiavano di morire addirittura sembra un cinico scherzo del destino di indigestione. E purtroppo accadde anche questo ricordiamo che stiamo parlando con lo storico Claudio Vercelli di questo giorno della memoria e ci furono poi naturalmente da lì fino a un'altra data simbolo di cui parleremo che il 5 maggio che è la liberazione di Mauthausen molte liberazioni una molto importante e molto significativa forse quella a ridosso del suicidio di Hitler del primo campo del prototipo in qualche modo Dachau che fosse come dire il campo che ha avuto la sua drammatica storia più lunga più lunga di dieci anni e lì è accanto qualcosa di diverso di quello che accadde Auschwitz. Lì arrivavano gli americani tra gli americani secondo il bario c'era addirittura anche anche Salinger il grandissimo scrittore divenuto poi in breve dopo il successo invisibile che alla figlia disse non si può mai più dimenticare l'odore dei colpi bruciati e gli americani mi persero la testa. Sì, sì, allora il fenomeno storico aveva come dire due, sommava due percorsi distinti. Da est c'era la liberazione dei campi di streminio, ciò che restava di esso, identificazione al limite dei siti di streminio, se già non erano stati distrutti dai nazisti in fuga o che consideravano non più essenziali per la loro attività criminale. C'era la liberazione di questi campi e la reazione, dobbiamo dire, non solo delle truppe in quanto tali, ma degli uomini e delle donne che stavano dentro quei reparti combattenti. Tenete conto che i sovietici erano abituati a confrontarsi con una guerra brutale. Alla fine della seconda guerra mondiale il numero di civili, di militari morti in Unione Sovietica ammonterà circa 25 milioni e che è un'ecatombe, è un'ecatombe, soprattutto in territori come la Bielolussia, l'Ucraina, il nord della Russia bianca e così via. Quindi erano persone sostanzialmente, aggiungo anche donne, perché c'erano anche donne, non nei reparti combattenti di prima linea, ma c'erano molte linee di combattimento, una seconda, terza e quarta linea, non facevano soltanto peraltro attività di logistica, facevano anche attività di combattimento, ad esempio nella polizia militare che doveva ripulire completamente ciò che veniva liberato dalla presenza dei tedeschi, di resistenti di altro genere, di alzando un ruolo legato al terzo orario. Però appunto l'arrivare in quelle condizioni fu spiazzante. Noi non abbiamo molte testimonianze dirette di cosa provarono, in parte lo possiamo intuire, in parte quelle testimonianze furono raccolte con grossa difficoltà da un autore che varrà la pena quando sarà possibile di celebrare con l'opportuna attenzione che Vassili Grossman. Vassili Grossman era a diretto contatto con questi eventi. Come corrispondente del maggior periodico dell'esercito sovietico, di fatto raccontava tutto, in un'epoca in cui era possibile raccontare molto, forse non tutto ma molto, perché lo stalinismo non aveva ancora ripreso piede nella maniera più ferina e feroce. E Grossman fu uno dei narratori di questa vicenda qua, insieme ad altri autori come Ehrenburg e così via, cioè giornalisti o per meglio dire letterati prestati al giornalismo di guerra, che rendevano proprio reso conto di ciò che vedevano. Queste cose raccontavano anche la reazione dei commilitoni, raccontavano anche la reazione di sofferenza in volti e in persone che erano abituate ormai da anni a fare la guerra, che avevano visto anche streminare magari le loro famiglie che non erano necessariamente ebree, ma erano famiglie slave che erano state trattate secondo il metodo di occupazione tedesco. La sorpresa del campo, dei campi, fu comunque spezzante anche per loro. Faccio presente che poi la raccolta di queste testimonianze, quello che è residuato in Buenos Aires, è stata ripubblicata molti anni dopo, in prossimità della caduta del muro in 89, ce n'è un'edizione anche in italiano, che è un libro nero sull'occupazione tedesca dell'Europa dell'Est, che è molto importante perché raccoglie documenti ma raccoglie anche voci singole. Sull'altro versante c'è l'arrivo invece delle truppe anglo-americane, che hanno una formazione, una storia diversa. Parliamo sempre di giovani, parliamo sempre di giovani. Nell'uno caso russi, nell'altro caso gli anglo-americani, età media era sui 18-20 anni. Poi ovviamente c'erano i militari di professione, c'erano i sotto-ufficiali che, come si diceva nel gergo italiano, erano firmaioli, che avevano l'abitudine all'esercizio delle armi, che tenevano i reparti insieme, che erano quindi un pochino più duri. C'è un bellissimo episodio al riguardo, lo consiglio, tra i consigli di lettura e di visione, ci sono appunto anche i prodotti fatti per la comunicazione pubblica, uno di questi è quella serie televisiva di alcuni anni fa, Band of Brothers, finanziata, sostenuta da Spielberg, proprio su un canovaccio spielberghiano, diciamo così, anche se poi le cose sono state firmate da diversi registi, sono, se ricordo bene, 12 puntate. La decima, la undicesima puntata è molto significativa, è la storia di un parto combattente, di paracadotisti americani, dalla loro formazione nel 1942-43 in Inghilterra, al loro lancio nel D-Day, cioè giugno del 44 in Normandia, fino all'avanzata dentro il cuore della Germania, da Occidente verso Oriente. Nell'undicesimo episodio, penultimo, forse nel decimo, terz'ultimo, intitolato Perché combattiamo? Che è un vecchio modo di esprimersi da parte degli americani per dire a se stessi per quali ragioni si fanno missioni all'estero, quali sono i valori che vogliamo difendere? Si racconta il perché quei soldati lì, per lo più giovani, scoprono, dopo aver combattuto già molte battaglie, una scenografia, un contesto, circostanze che non immaginavano ed è l'incontro con un campo, un campo minore, un campo di lavoro. Dire campo di lavoro sembra quasi qualcosa di rassicurante, in realtà è un campo dove ci sono delle larve delle persone che sono sopravvissute. Ora consiglio, perché si può anche sul web, si può anche acquisire l'intera serie, che di per sé vale molto, è una forma di narrazione americana della Seconda Guerra Mondiale, molto ben fatta, molto ben curata, anche dal punto di vista dei particolari, poco retorica in sostanza. Consiglio di andare a recuperare in particolar modo quell'episodio lì, perché quell'episodio lì racconta, come posso dire, la dissonanza cognitiva, dello sconcerto di questi giovani e i loro ufficiali, un po' meno giovani, vissero davanti a questa cosa qua, dell'incapacità, lo si vede in alcune scene, di riuscire a dare voce. Fino ad allora avevano combattuto, anche brutalmente, duralmente, ma stavano dentro un certo ordine di idee. Lì entrano in un contesto completamente diverso, impensabile. Come puoi esprimere a parole ciò che non riesci neanche a pensare nel momento in cui quel fatto, quella vicenda, quell'evento si presenta davanti a te? Ed è molto ben reso, con grande cure, con grande... è prodotto di fiction, ma è una fiction che si basa sulle testimonianze, fra l'altro, di alcuni militari che vissero quella cosa lì. Senta, professore, ci fu un dibattito in Italia, perché appunto l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati proponeva come giorno della memoria, il 5 maggio che ci davo prima, la liberazione di Mauthausen e anche nel caso di Mauthausen, come quello di Auschwitz e di molti altri, parliamo di un arcipelago di sottocampi molto numeroso, Gusen tra i più efferati, se parliamo di Mauthausen, eccetera, eccetera, ma ci fu anche Fulio Colombo che disse, facciamolo il 16 di ottobre, stiamo parlando del 43, dell'astrellamento dei mille ebrei romani, del Ghetto di Roma. Che ne pensa di quel dibattito che si svolse e di queste date, che però forse convergono tutte su qualcosa e forse il 27 gennaio è forse la data più veramente internazionale. Senz'altro il 27 gennaio, poiché parla di una vicenda avvenuta nella Polonia che era stata occupata fino allora dai nazisti, ci restituisce una dimensione continentale, perché parliamo di un evento che ha una natura continentale e che deve essere ricordato secondo me anche in termini europei, non solo in termini nazionali e questo è un dato. Rispetto, come dire, alle ipotesi di date alternative su cui ci fu un confronto parlamentare molto secco, Fulio Colombo continuò, è stato padre della legge sul giorno della memoria, continuò a sostenere fino a che fu possibile l'identificazione del 16 ottobre, 16 ottobre del 43, con la deportazione degli ebrei romani, per meglio dire, e la razzio, se si preferisce, il ratto degli ebrei, il rapimento degli ebrei romani che di lì a pochi giorni furono poi deportati quasi tutti ad Auschwitz e furono poi assassinati in gran numero al loro ingresso nel campo medesimo. Ovviamente indica qualcosa di più precisamente italiano e indica le responsabilità o le corresponsabilità che non solo in quella singola vicenda, quella del 16 ottobre per la punto, ma più in generale nella politica esterminazionista ebbero i collaborazionisti nazionali, non solo gli italiani, che all'epoca erano nella Repubblica Sociale Italiana da poco costituita, o che si stava costituendo, difatti era ancora un organismo informe, e nel fascismo repubblicano che aveva ripreso vigore con il ritorno di Mussolini in Italia dopo la sua liberazione dal Gran Sasso, ma indica anche, come dire, il fatto che questa vicenda nella sua globalità, in quanto vicenda continentale, in quanto vicenda che chiama in causa in primis delle responsabilità tedesche e naziste, però poter avere corso funzionò come una macchina odiata, perché a livello di ogni nazione occupata o collaborante con i tedeschi medesimi, vi furono fortissime compromissioni da parte delle amministrazioni, delle autorità, non solo della polizia laddove ciò avvenne, non solo dell'esercito laddove ciò avvenne, non solo, come dire, le autorità militari, le forze dell'ordine, che peraltro non averirono in toto a queste cose qua, ci furono differenziazioni anche molto significative, in buona sostanza, ma vi furono collaborazioni da parte di componenti, elementi della collettività, che ne traevano un qualche vantaggio, ritenerano di traere un qualche vantaggio. La sostanza del discorso sul 16 ottobre qual è? Ci sono responsabilità italiane in queste cose qua? Cioè non c'è bisogno di essere state guardie ai campi di Auschwitz per avere concorso al procedimento, al processo sterminazionista, basta aver collaborato anche solo all'identificazione dei catturandi, delle persone da portare via, del tutto in difese, e si aggiunge altro elemento, vi fu una responsabilità diretta del fascismo repubblicano, quello che era risorto dopo il 25 luglio del 43. Il discorso del 5 maggio, Mauthausen, che è un discorso anche molto legato all'associazionismo degli ex deportati, perché comunque il 5 maggio cosa vuol dire? Il trionfo definitivo, totale, su quella che era stata l'esperienza, la dilacerante esperienza nazista. Cioè anche questo è una visuale forse più tra virgolette europea, è una visuale dove in qualche modo, anche se non si può parlare di vittoria, perché la liberazione di un campo non è una vittoria, tuttavia si ricorda anche più facilmente in un luogo di repressione, oppressione di stremino, quale fu Mauthausen in Austria, però anche l'aspetto della vita che riprende. Le cose io non le vedo come alternative, in realtà, non sono neanche poi così appassionato sulla questione delle date. L'importante, ecco, è non usare un meccanismo di autoassoluzione che è valso invece negli anni trascorsi, per cui va bene, i tedeschi sono cattivi, gli altri hanno subito. Non è proprio stato così. Una macchina così oliata non la metti in piedi solo perché ci sono alcuni carnefici. Ci vogliono gradi diversi e distinti di compromissioni. Questo non vuol dire che gli europei furono in toto responsabili di quel fatto di... Le responsabilità sono poi sempre individuali, anche in queste vicende collettive. E purtuttavia rimane il fatto che non puoi applicare allora come oggi, non puoi realizzare allora come oggi uno sterminio, un genocidio, se non ci sono diversi gradi di compromissione a vari livelli. Assolutamente. Non c'è dubbio. Interessante libro di Allen, i volenterosi carnefici di Hitler e altri testi del genere. Goldhagen. Goldhagen, sì, esatto. Allen aveva scritto come si diventano nazisti. Come si diventano nazisti, esatto. Ho invertito i testi. Anche se i polacchi dicono che loro non ne sanno niente, diciamo, ma questo... È già un altro discorso parallelo che si inserisce comunque non nella collaborazione, ma è una sorta di... per alcuni di essi, per alcuni di essi, una sorta di compromissione rispetto alle circostanze. I polacchi erano sotto il tallone nazista. Erano un popolo che doveva sparire, non attraverso lo sterminio fisico, ma attraverso la disintegrazione culturale. E questo è un primo dato. E le loro terre furono straziate dall'occupazione nazista. I polacchi persero 3 milioni di non ebrei e 3 milioni di ebrei polacchi. Quindi fu una carneficina totale da quel punto di vista. E però è certo che alcuni di loro si compromisero con l'occupante, perché... perché comunque l'occupazione presuppone molte cose, ma presuppone anche la corruzione morale delle persone, non soltanto... Sì, per esempio, questo è quello che dice, è giustissimo, non c'è dubbio, però potrebbe valere per un altro paese. La Polonia è un paese che espelle gli ebrei nei anni cinquanta. Per cui, come dire, è chiaro che le mie domande sono un po' più... come dire, coinvolte rispetto all'esempio polacco. Eh beh, però allora questo vuol dire che se noi dobbiamo identificare dei paesi dove prima del nazismo vi era stata comunque un'esperienza antisemitica particolarmente robusta, non è la Germania, neanche meno l'Italia, voglio dire, neanche meno l'Italia, ma non perché noi siamo stati più buoni, semplicemente perché non ci ponevamo in quella... può sembrare un paradosso per Sottuni, eh? L'Italia era e rimane la sede della Chiesa Cattolica, quindi anche con un portato antigiudaico robusto, però non era il paese dei buoni sentimenti, era un paese che non si poneva il problema di una dimensione antisemitica se non in forme molto magmatiche, frastagliate, presenti dentro una parte della dottrina di allora della Chiesa, ma era una cosa diversa dall'antisemitismo invece contemporaneo. Se vogliamo vedere le radici dell'antisemitismo contemporaneo che porta poi in qualche modo alla legittimazione dello sterminio bisogna guardare la Francia, senz'altro, bisogna guardare ciò che residua del vecchio impero austro-ungarico, in particolar modo alcuni segmenti dell'Austria e dell'Ungheria, alcuni segmenti, bisogna capirci molto bene perché per esempio nelle grandi città dove c'era la classe operaia l'antisemitismo aveva minore diffusione, mentre invece c'era una maggiore diffusione nelle campagne per dire, era molto presente in città di minore dimensioni dove c'era una cultura economica anche più legata ai settori dei servizi per dire, non sto stabilendo correlazioni immediate, non sto dicendo commercianti, però dobbiamo essere chiari perché c'è un risentimento, un pregiudizio che ha anche delle ricadute sociali abbastanza significative e poi senz'altro i paesi dell'Este. La Polonia, perché vi era un fortissimo radicamento ebraico, una parte della società polacca da questi viverebbrei, stratificati, ricchi, meno ricchi, poveri, molto poveri, soprattutto molto poveri e poveri, erano gente di estrazione molto modesta dal punto di vista economico. Allo stetele ebraico, diciamo al villaggio... Assolutamente, lì si apre proprio come dire, un orizzonte antico che vale almeno per tre o quattro secoli, ma che riflette la storia europea moderna e contemporanea e poi la proietta all'interno del Novecento, ma anche Romania e Ungheria, per dire. Nell'Ungheria l'ebraismo era fortemente urbanizzato, più che in altri paesi. Tenete conto che comunque la componente ebraica nei paesi dell'Opera dell'Este era urbanizzata anche perché non aveva alternative professionali. Di fatto, per lunghi periodi, per molti secoli, fu interdetta dagli esercizi legati all'agricoltura e al possesso di luoghi agricoli e degli strumenti agricoli. Quindi si riversò prevalentemente nelle città, facendo lavori molto miseri legati al commercio di allora e poi successivamente ebbe un qualche ruolo nelle attività non solo mercantili, ma anche industriali, laddove però andò a comporre essenzialmente il proletariato industriale, l'Europa dell'Este. Jonathan Safran Foer, se non sbaglio, fatteva un suo personaggio e quando le SS arrivarono in Ucraina la situazione migliorò sensibilmente a proposito della diffusione dell'antisemitismo prima di Hitler. Lei 16 anni fa, proprio in quel 2005 del giorno della memoria, scrisse un libro dal titolo Gli altri olocausti. Il riferimento naturalmente è al mondo non ebraico coinvolto nell'olocausto. Ci dici qualcosa su questo, brevemente, con la sintesi delle prove? Senz'altro. Interpretare gli eventi che si rifanno al giorno della memoria e quindi al processo di sterminio ma anche alle dinamiche della cattura, dell'internamento, della deportazione vuol dire confrontarsi con molti soggetti. C'è lo sterminio fisico, sistematico che avveniva in determinati luoghi oppure in luoghi misti, concentramento e eliminazione fisica, che ha come obiettivi le razze inferiori. La razza inferiore per eccellenza è quella ebraica. Nulla avrebbe impedito, io credo, anche se la storia non si fa con i secoli, ma che una volta vinta la guerra i nazisti potessero, come avevano anche manifestato l'intenzione, provvedere a una riduzione significativa della componente slava presente nel mondo. Ma questo è una cosa che non possiamo affermare con certezza perché è semplicemente un iposimo, per far capire qual era la funzionalità di una parte di queste strutture criminali. Poi vi è però il processo sia di deportazione e di imprigionamento che di internamento, propriamente inteso, che allora riguarda altri gruppi sociali, che riguarda grossomodo tutta una serie di categorie che furono coinvolte dentro le pratiche persecutorie e poi quelle omicide che ebbero proprio nei campi di concentramento il loro punto finale. Allora qui la storia va sempre molto spiegata perché entrano in gioco molti soggetti. La prima cosa che può essere ricordata, parlando di Dachau, è che i primi a finire nel campo di concentramento, che fu generato nel 1933, proprio fu in qualche modo varato, non dico battezzato perché mi sembra storpiare una parola che ha ben altro valore, fu inaugurato nel marzo del 1933, peraltro con tanto di enfasi anche pubblicistica, se ne parlò anche sui giornali, come sistema di detenzione estragiudiziale in sostanza. Finalmente abbiamo un luogo dove mettiamo i nemici dello Stato, i nemici del popolo tedesco, senza dover passare attraverso del pastoio e della burocrazia giudiziaria e così via. Applaudiamo di questa cosa qua. I primi a finire in quel campo non furono gli ebrei, gli ebrei sarebbero arrivati diversi anni dopo, quando iniziarono le deportazioni razziali, con la guerra di fatto avviata a quel punto, quantomeno dopo la notte dei cristalli del 1938 in Austria. I primi a però negli primi campi di internamento e di prigionia che simulavano una funzione produttiva con un obiettivo rieducativo, tu che sei un nemico dello Stato vieni qua, vieni rieducato a suon di botte e di lavoro forzato e poi così ti rigeneri. Ebbene, i primi, dicevo, furono proprio i tedeschi, gli oppositori politici, cioè quella ampia schiera che andava dai comunisti tedeschi e arrivava a una parte del mondo liberale raccogliendo socialisti, socialdemocratici, c'erano molti gruppi anche molto corposi e che furono completamente disintegrati dal punto di vista politico ma anche umano nel giro di pochissime settimane, i sindacalisti eccetera eccetera. Questi campi che andavano poi strutturandosi nel corso del tempo raccolsero anche altri gruppi o tra virgolette minoranze. Io ho lavorato, ho studiato la deportazione di testimoni di Geova che è una delle deportazioni meno raccontate, non ha la stessa natura della deportazione razziale e in proprio associarla però di fatto comportava un trattamento brutale e poi assassino nei confronti di coloro che erano portati dentro i campi di concentramento. Vi fu la deportazione soprattutto poi di figure che non erano solo più politiche ma appartenevano a vario tipo le opposizioni culturali e sociali minimamente strutturati, vi fu la deportazione degli omosessuali eccetera eccetera eccetera. Alla base di tutto questo, come vengo? I Romi Sinti che è una deportazione molto particolare perché anche quella avrebbe dovuto assumere una natura sterminazionista e lo fu, però con dei passaggi che non erano omologhi a quelli utilizzati per gli evri. Bisogna studiare molto queste cose qua e non sono cose così semplici, evidenti. Arrivano i nazisti cattivi, prendono tutti e succede un massacro collettivo, succede anche un massacro collettivo, ma nel corso del tempo, anche perché l'impegno che i nazionalsocialisti ponevano in essere era quello di convincere la società, non solo quella tedesca, della bontà di quanto andavano facendo, dell'accettabilità quantomeno. Non dovevi vedere il campo, ma dovevi intuire che se erano state applicate misure estragiudiziali, in deroga a qualsiasi sistema di diritto e di tutela delle libertà personali, in fondo era per il tuo bene, per il tuo bene di persona che non era interessata a quelle cose lì, ma che dava l'assenso se gli giungeva ecco. È una costruzione quindi complessa questa, che non si presta a interpretazioni semplicistiche. Per l'appunto, i tanti olocausti indicano, sia pure con un titolo di volutamento, un proprio provocatorio, l'itinerario di questi gruppi sociali, di questi gruppi culturali e così via, dai politici per arrivare poi fino agli ebrei medesimi, ma appunto la deportazione ebraica ha una funzione essenzialmente esterminazionista. Ultima cosa che va compresa da parte dei nostri ascoltatori è anche un fatto importante, che noi parliamo di universo concentrazionario, già qualche cosa l'abbiamo detto prima, poiché abbiamo a che fare con realtà tra di loro piuttosto stratificate, campo di concentramento, campo di internamento, campo di lavoro, campo di polizia. I tedeschi di allora amavano molto queste classificazioni, campo di esterminio, sono installazioni similari ma con funzioni distinte e diverse. Ci si moriva dentro, questo era pressoché assicurato, ma per comprendere come si morisse e come queste cose funzionassero per far morire bisogna studiare per appunto non solo le tipologie, espressione un po' fredda per parlare di queste cose qua, ma la storia dell'evoluzione di questo sistema di oppressione, repressione e distruzione di massa. Professore sono un po' preoccupato da farle questa domanda perché potremmo andare avanti per molte ore, invece abbiamo a disposizione davvero un'altra decina di minuti al massimo, però non posso non chiederle due, tre libri secondo lei veramente importanti quando parliamo di scior. Sì, allora senz'altro, abbiamo già parlato ripetutamente, ci torniamo sopra perché comunque va ricordato perché è un viatico del Novecento sommersi e salvati. Lo recuperiamo e lo ricordiamo anche se una parte dei nostri ascoltatori già conoscono e sono, come dire, avvezzi a questa cosa. Potrei aggiungere una testimonianza diretta, quella di Elie Wiesel, La Notte, che è un testo che è facilmente reperibile in commercio. Parlo di testi recuperabili, nel senso che sono disponibili quantomeno nelle biblioteche e senz'altro nelle librerie. Se si vuole affrontare di petto lo studio della complicità di queste cose qua, il libro fondamentale è La distruzione degli ebrei europei, pubblicato da Einaudi. Naturalmente adesso mi sfugge il nome dell'autore, ma è, come dire, un testo indispensabile, è un testo molto grosso, sono 1500 pagine, è prodotto di una sintesi di dottorato che fu fatta molti anni fa e che rappresenta il summa della ricerca, poi da lì se ne sono dipanate molte altre in buona sostanza. Esattamente, Raul Hilberg, esattamente, casa editrice Nauli, lo ricordo solo perché è disponibile lì, quindi non faccio promozione commerciale. C'è poi tutta una letteratura molto ampia. Io mi permetto di aggiungere un autore che ho citato prima, che non parla solo dei campi, parla anche dei campi, ma parla del contesto in cui questo e altri fenomeni si inseriscono, perché a noi, a Scandisci, piace anche fare, come dire, dei link storici, non solo isolare un fenomeno, ma contestualizzarlo. È un testo molto, molto importante per capire quel 900 lì, ma anche l'altro 900, quello ad esempio stalinista è Vita e destino di Vassili Grossman, che è un testo imprescindibile. È un testo che racconta, come dire, trasformando le parole in carne e in sangue, da parte per l'appunto di colui che era il corrispondente, uno dei corrispondenti di guerra dell'esercito sovietico, l'impatto di queste vicende epocali. E questi sono alcuni testi non facilissimi, ma non è un tema facile, non c'è il raccontino. Non c'è problema per quanto riguarda l'ampia pubblicistica e memorialistica, che in questi ultimi anni ha avuto molti aspetti, molti riversamenti su carta stampata e non solo, non c'è problema per quanto riguarda gli studi storici, che ormai sono abbondantissimi, sono stati tradotti anche in italiano, oltre agli studi degli autori italiani, ne esistono molti. Lista anche, e poi chiudo su questo aspetto, che è comunque fondamentale, lista anche a chi inizia intraprendendo un percorso di questo genere, farsi per l'appunto, passo dopo passo, una strada sua propria, in base a quelle che sono letture. La cosa migliore, io consiglio, è di andare in biblioteca, a Scandicci, piuttosto che in altri luoghi, a consultare i repertori bibliografici, a chiedere anche ai bibliotecari, i bibliotecari sono preziosi su queste cose qua, sono molto a Torino, come a Firenze, a Scandicci, in altri luoghi, e confrontarsi con loro, farsi dare dei consigli e iniziare le letture su da base di quei consigli. È una cosa molto utile. Un film che l'ha colpita particolarmente? Allora, come dire, scientificamente, come dire, evitato quello che noi sappiamo, diciamo così, ecco, non ci ha parlato di cose... Finché io sono riuscito, che sono riuscito a proiettare, addirittura con le classi quinte della scuola primaria, a rivederci ragazzi, perché non affronta direttamente quella vicenda lì, ma attraverso la memoria dello stesso regista, lui mal per l'appunto, che visse di riflesso quegli eventi, non era ebreo, quindi non fu deportato, ma vide la deportazione di alcuni suoi compagni di collegio, ci restituisce un'atmosfera, un'atmosfera. Non cercate, non si cerchi i film che ci rende partecipi, consapevoli, come se fosse una testimonianza diretta dello sterminio, non esiste, non si può testimoniare la morte, non è neanche un riscontro filosofico, è un dato di fatto. Se dovessi parlare di film più realisti, un film non facilmente reperibile, ma che c'è sul mercato italiano, è la zona grigia, The Grey Zone, che è di Nelson Black, eccetera, ma naturalmente i nomi e me li dimentico, di un regista americano, è una ricostruzione molto, molto puntuale della sollevazione che ci fu ad Auschwitz nell'autunno del 44 da parte di un gruppo di prigionieri che lavoravano nei crematori. È molto precisa e, come dire, molto puntigliosa e così via, se vogliamo avvicinarsi a quel tema lì in maniera, non dico non brutale, perché il tema è brutale di per sé, ma comunque in maniera sufficientemente sensibile a molti aspetti anche di rigore di contenuto. Senta, professore, un'ultima battuta a proposito di Zone Grigie. Lei è uscito con un nuovo libro, lei come storico, come dire, molto prolifico e ci regala di frequente saggi di straordinario interesse, ed è uscito con Neofascismo in Grigio, la destra radicale in Italia e in Europa, per Enaudi. Il neofascismo ritorna in Italia e in Europa in forme ingannevoli, mutevoli, capace di adattarsi al pari di un camaleonte da un classico nero ad un inquietante grigio. E questo ci riporta all'importanza di questi momenti come il giorno della memoria. Di che racconta il suo libro? Il libro è una riflessione su non tanto i gruppi neofascisti presenti in Italia o in Europa, che in fondo raccolgono, malgrado tutto, un numero limitato di adesioni, ma su un calco fascista e neofascista che non è venuto meno con la fine prima del regime e poi con la storia di quel novecento che ci siamo in parte lasciati alle spalle. Cosa rimane del fascismo e del neofascismo soprattutto nell'Italia, nell'Europa, nel mondo oggi? Anche dinanzi agli eventi, per dire, che hanno una loro autonomia, che non possono essere interpretati sotto un'unica radice, un'unica espressione, dell'America delle settimane scorse, dove fenomeni di radicalismo esasperato si manifestano all'interno di democrazie consolidate. Cosa rimane del calco fascista e neofascista negli atteggiamenti e nelle condotte di coloro che hanno una sostanziale vocazione non solo antidemocratica, ma antipluralista? Perché del comunismo storico probabilmente di qui in avanti ricorderemo sempre meno, mentre invece del fascismo storico e dei suoi epigoni neofascisti ci sono tracce che ritornano non come ideologia compiuta necessariamente, ma come forme di pensiero, atteggiamenti, mentalità che in qualche modo trovano la loro legittimazione in quel passato che stenta a passare e essere rielaborato pienamente. Allora il libro ragiona su queste categorie qui e sulle ultime, gli ultimi scenari, ad esempio il complottismo, il negazionismo, queste cose qua che sono parte integrante di questa ossatura. Il libro di Claudio Vercelli si chiama Neofascismo in grigio, la destra radicale in Italia e in Europa ed è edito da Enaudi. Professore grazie per essere stato con noi anche per questo 27 gennaio 2021, ci auguriamo di vederla presto dal vivo a Scandicci. Per il momento grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie dell'ascolto e grazie della pazienza.